Fai te c'è il giovane se fai il sopprire! Papà? Sì? Lena? Cosa ti stai facendo? Vado a cambiare la lampadina, non vedi come non funziona molto bene? Ecco sia che è spenta. Ok. Con lamento. Sono proprio stanca. Per fortuna che c'è una sedia, c'è una panchina, così mi posso mettere a riposare. Ma che cos'è? Ecco padrone, qua dentro c'è la figlia di Jane Jones. La sua prima vittima. E' un po' poco. Mi sbufera. Tocca a te. Jane vado a fare la doccia? Certo Alex! Mi raccomando fai presto perché poi anche a me servo il bagno. Certo. Mi sbufera. Mi sbufera. Mi sbufera. Chi è? Che stancazza. Alex! Che c'è Jane? Mi sbufera! Jane Sanchez ha il rapporto. Lasciala andare. Jane! Alex! Jane! Jane aiutami! Devi farci sotto con il sottoscritto! Jane è andato! Sì, credo di sì! 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 Sì!